Ho rincontrato Francesco che mi ha comunicato che le telefonate svariate che lui ha effettuato naturalmente non staremo qui a fare nomi di nessun tipo, anche perché poi essendo arrivato da poco non ho conoscenza della realtà imprenditoriale locale, e queste svariate telefonate hanno avuto carattere o negativo o interlocutorio. Io sono qui oggi per dire che non abbiamo più il tempo per essere interlocutori, non abbiamo più il tempo per essere interlocutori, perché altrimenti a una settimana da oggi se non dovessero verificarsi le situazioni di aiuto che io e il sindaco stiamo cercando di portare avanti per saldare finalmente questa ferita che incide sulla pelle della squadra, io riconsegnerò le chiavi di Giulianova al sindaco. Io da contratto potrei ridarlo, l'avrei potuto già ridare quattro settimane fa quando ho pagato le prime due vertenze alla vecchia società, ma è pratica inutile. È inutile ridarlo a loro, non per qualcosa, ma perché naturalmente hanno manifestato l'impossibilità a gestirlo. E quindi mi troverò costretto a restituire la squadra al sindaco. Stiamo parlando, non stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro, quindi attenzione, andiamo a parametrare quello di cui stiamo parlando, non stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro. Le centinaia di migliaia di euro se le ha collate in prima persona Antonio Esposito con la rateizzazione del debito IVA. Quindi qui parliamo di cifre importanti, ma non di centinaia di migliaia di euro. Ma all'incirca siamo sui 60-70 mila euro. Come ci ho messo la faccia io? Adesso voglio vedere poi chi si presenta adesso per dare una mano o chi aspetterà di vedere passare il cadavere sulla riva del fiume, ma non Antonio Esposito. Dopo questo lo vedranno gli abitanti, i cittadini, i tifosi di Giulianova.